Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, dunque Tognolo, Bragonzi e Bellucci, questa è la tripletta Juventina che batte la Fiorentina a primavera e si qualifica per la finale della Viareggio Cup che avrà luogo martedì alle 3 contro la vincente di Inter Sassuolo, io lo dico sarà l'Inter, mi sbilancio, mi sbilancio ma dunque partita che sarà difficilissima perché comunque le interiste, le linee azzurie sono veramente forti anche a livello primavera e comunque c'è da dire, c'è da dire insomma che queste ragazze hanno fatto qualcosa di veramente straordinario ottenendo questo pass e adesso andiamo a giocarci il trofeo, andiamo a giocarci il trofeo, partita con la Fiorentina chiusa già nel primo tempo con le reti appunto come detto di Tognolo e Bragonzi, poi Bellucci nel secondo tempo ha trovato la via del 3 a 0 che però ormai era una via abbastanza spianata e quindi tutto molto semplice, tutto molto facile per le ragazze bianconere che dunque adesso martedì come detto affronteranno l'Inter o il Sassuolo a Carrara e sarebbe bello vincere questo trofeo che sarebbe appunto al primo anno che si gioca e sarebbe bello insomma e quindi però ecco la cosa importante è che martedì sarà visibile su Rai Sport e quindi per la prima volta sarà la prima partita della Viareggio Cup Women visibile in chiaro quindi potrò fare anche un'analisi più completa ma comunque sono contentissimo per questo successo e niente dunque Fiorentina battuta per la terza volta in una settimana, due volte in campionato, ai quarti di finale del campionato dove la Juve ha ottenuto il pass per le semifinali e adesso una volta anche in Viareggio Cup con la Juve che dunque ottiene il pass per questa finale ragazzi non c'è più nient'altro da dire se non che vi invito a vedere la partita su Rai Sport martedì per invitarvi stasera sarò in live su Mondo Calcistico e TV a partire dalle 20.30 quindi sicuramente un altro appuntamento imperdibile con delle sorprese ma vi sveleremo tutte stasera e niente ragazzi a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video, ciao!